Furloni bentornati in un nuovo video sul canale, siamo tornati sulle random UHC La gente scrive già GLHF, Marco sai cos'è GLHF? No, good luck and fun Good luck and fun, esatto Allora Marco, io sono già qui La sabbia ti dà dei blocchi di quartz, vediamo il quarzo che cosa ti dà Il quarzo dà dei blocchi di ferro, non male i blocchi di ferro eh Non male i blocchi di ferro, qua scrivo, stanno già spoglierando tutto e non va bene questa cosa Purpurblock Sand is cursed Perché sand is cursed non è mia assolutamente Un po' così ho scritto così a caso Lo sto provando un attimino, ah tu l'hai scritto Comunque ragazzi ovviamente non so se l'avete capito ma c'è Marco con noi Ciao, io sono giocato più forte delle random UHC Ho trovato il diamante, no ho trovato il diamond d'oro ho trovato Ah uffa, eh no cosa ce ne faccio il diamond d'oro Eh ma la c'è dai se ci pensi eh Io sto spaccando la qualsiasi della sand ragazzi e non mi ha droppato niente, perfetto Allora il grass è vero come hanno scritto era legno quindi questa cosa ottima Buona Allora ho trovato la farm di legno E anche io te l'ho appena detto La grass Eh no Eh sì eh cos'è scusami No Tipo legno E se tu rompi il legno di verce ti dà la concrete, no la terracotta verde Ti dà il blocco della farmland Eh ma non ne vale la pena fare tutto sto casino Scusami eh Comunque cioè Eh che casino Diamond d'ora Eh anch'io ho trovato il diamond d'ora Anch'io ho trovato il diamond d'ora amico Eh amico l'ho trovato anch'io Io sto cercando però di trovare dei blocchi un pochino Uh ho trovato Forse ho trovato il Ok forse ho trovato quello che serve E mi sa che sono i sunflower Allora Fabio c'è anche i cavalli Le pecore danno il legno direttamente Il cavallo cosa mi ha dato? Non mi ha dato praticamente niente Sono confuso eh Sono molto confuso Abbastanza Perché non sto trovando niente di così interessante per adesso Vediamo questi fiori qua Ok sì forse Basta legna Hanno trattato uno ceppo Hanno trattato uno ceppo Ma come? Vediamo se quello che dicevo io prima era vero Sì mi sa che è proprio questo qua Uh ok 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 Sono confuso Marco comunque Sappelo Abbastanza Sì 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 Sono molto confuso Ok sto trovando le fornaci Vediamo se è realmente come dicevo io Magari sono il primo ragazzo ad aver trovato il bloccone Quello bellissimo Può anche essere ragazzi eh Può anche essere Allora mettiamo questi shulker box giù Pensa te Oh ragazzi non mi dico Se è così è un disastro Perché ci vuole veramente troppo tempo Per farmare queste cose qua Sai cosa non abbiamo guardato Marco? Cosa? Come l'ultima volta Se la terra quella lì Dirt with grass gives diamond brew Cos'è dirt with grass? Impossibile Non puoi avere grass Cos'è dirt with grass? Ma non è vero Il dirt with grass è il blocco di erba Eh ok Il blocco di erba non droppa niente in realtà Boh mi ha dato un panel grigio E a sua volta il panel grigio mi dà un blocco di Allora Marco io ti consiglio se vuoi Ok ho trovato i diamanti Ho trovato i diamanti Come fatto? Sì 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 ragazzi allora È molto difficile trovarli Come fatto? Allora Devi spaccare i fiori gialli Ok E arrivare fino alla fine Devi arrivare fino alla fine È lunghissimo È un procedimento lunghissimo ti giuro È veramente lunghissimo come cosa Ascolta i fiori gialli Eh non mi ricordo quali erano C'è tipo un carpet grey dopo i fiori gialli Esatto devi arrivare fino in fondo a quella cosa lì Cornace Sì sì vai avanti vai avanti vai avanti All'infinito Ok Quanti diamanti hai scusa? Eh ne ho solo uno Però si craftano così secondo me Cioè è l'unica cosa che mi viene in mente in realtà Perché Cavolo 11 minuti per fare tutte queste cose qui È complicata però È tanto è veramente tanto È veramente complicato Però oh Ho trovato il fatto di tornare i diamanti Quindi la farm l'abbiamo trovata E siamo a posto La sabbia che cosa dà? La sabbia mi ha detto che dava il quarzo Ma non dà niente Ci sono un po' di Anche i sunflower conti o? Non lo so se ti danno il Se ti danno Tu devi partire dalla nana viola Devi partire dalla nana viola Ok Ok Io adesso mi vado a farmare un bel po' di blocchi gialli Questo ho trovato il beacon Forse siamo gli unici ad aver trovato il diamante Lo sai? Sai che lo penso anche io Perché di solito lo scrivono tutti ragazzi Quando trovano qualcosa lo scrivono veramente tutti Ed è la prima volta che non leggo niente in chat Ok Questo cosa che ci ha dato? Vediamo il granito cosa dà Per caso ho guardato il granito che cosa ci dà? No per ora no Sto solo farmando cose gialli Ok non dà niente Vabbè Allora io sto a farmare anche io cose gialle Cavolo lì ce ne sono tantissime ragazzi Mi sa che partiamo da fare solo questi qua Urca ragazzi Che partita complicata Marco Ecco speriamo questa volta di non morire subito Perché cavolo l'altro 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 ha fatto veramente un fail Guarda io avrò quanti blocchi viola? Per ora ho 9 blocchi di wool ma ne ho altri più 5 quindi 14 Io ne ho 25 Marco Mamma mia Mamma mia Ne ho 25 Dovremmo trovare anche il modo di enchantare Eh quello è difficile Marco adesso cominciamo a partire da questi qua fidati Allora mi son fatto anche le shears ragazzi Cos'è me ne vado su e scendo velocissimamente Sandstone is really good Prova a guardare anche te la sandstone cos'è fra Eh non la trovo Sono proprio lontano dalla sabbia io Forse era meglio che non facevo questa cosa qui ragazzi Ah è vero il tizio lì Sai cosa fa? Dalla sandstone Fa direttamente le scale mi sa Potrebbe anche essere ragazzi Potenzialmente no scusami la sandstone ti dà la sandstone Hai ragione Non ci avevo pensato minimamente Io ragazzi devo fare per forza Questa scaletta qui ci mettiamo un po' eh Per guarda che per craftare questi diamanti Infiniti ci vuole veramente un sacco Mamma mia Ci vuole veramente un sacco però potrebbe essere Ripagata la cosa potrebbe essere ripagata Io ho solo paura di laggare Ho 31 pezzi viola Ok vai dovresti andare sciarlo Come li fate le shears scusami Eh ho trovato il ferro non mi ricordo come ho trovato il ferro Niente vero Ho trovato il ferro ma non mi ricordo realmente come Eh guarda io potenzialmente vorrei fare Almeno full diamond Perché perché si Ma in realtà non c'è modo per prenderla cobblestone Non credo Devi trovarla Lo sai Ah ragazzi posso far così Posso fare così Le spacco più in fretta Vedete Ok Se metti un tappeto sopra l'altro ti dà ovvio No me ne dà solo uno No ragazzi ho sbagliato tutto Allora a far sta cosa Si è combinato Eh occhio a spaccare i tappeti Due alla volta No in teoria dovrebbe funzionare Non capisco No dovrebbe funzionare Non ha funzionato in realtà Ma 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 ha dato solo 16 Vabbè fa niente ragazzi Fa niente 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 E' complicata la cosa Quindi Devo fare le cose più in fretta possibile Anche se ti dico la verità Potrebbe essere opportuno A parte no Ti dà tutti gli shulker box Marco E' un disastro con gli shulker box Perché scavarli uno dopo l'altro Esatto Esatto La Sanson dove l'hanno trovata Questi qua Io sono troppo curioso ragazzi Sono troppo curioso Eh saranno spavati dove c'è il deserto No perché io la sabbia ce l'ho qua Però non ho la senso Forse scavando verso il basso Però dovrei trovarla sai Forse si eh Aspetta facciamo così Mamma mia quante robe che c'è Marco ma siamo stupidi Cosa? Nei fiumi ti danno direttamente la clay In teoria E quindi? E noi arriviamo alla clay eh No non arriviamo alla clay normale Sì 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 Alla clay arriviamo Fidati Ce l'ho davanti Sì ce l'ho davanti Ce l'ho davanti Vabbè tanto abbiamo trovato comunque un modo lo stesso Ok Io se è un fiume vicino vado direttamente a vedere la clay Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Anzi vado subito Marco Vado subito Prova 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 Dai io intanto continuo a fare il modo semplice per fare i diamanti Sì 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 Anche perché loro hanno Oh Stonis OP Dicono La Stonis OP Ok Voglio capire se realmente c'è Ok qua c'è della Sandstone La Sandstone da i Glaced Terracotta Che danno Che cosa ci danno questi Glaced Terracotta Vediamo un po' Ci danno dei fiori bianchi Ok potrebbe essere che i fiori bianchi Diano qualcosa di interessante Ma a noi non ci interessa Io voglio trovare il fiume Eccolo qua il fiume Ragazzi abbiamo il fiume Abbiamo il fiume E c'è un sacco di clay Questo è un sacco di clay ragazzi Ragazzi questa è la svolta Questa è la svolta Io ho ancora i diamanti comunque Niente eh Non l'hai trovato? No Eh dovrebbero uscirti comunque Eh niente Ho rotto per ora tre Praticamente i blocchi viola Ancora nulla No ma no Devi continuare all'infinito No lo so Marci Lo so lo so Sono arrivato che continuo ad avere oro Spade e queste cose Eh lì Lì ti escono però comunque Devi arrivare tipo al Credo Sì alla netherack mi pare Ma non si può andare tipo nel netherack Ma esatto ma scusa Io ho tre di ossidiana eh Eh io ossidiana ne ho dodici Ma non credo si possa andare nel nether Sono veramente Guarda se andassimo nel nether Sarebbe tipo una roba OP Proprio più Pi incredibile del mondo Ok sì Effettivamente con Andando nel fiume Prendendo la clay Si fa molto più in fretta ragazzi eh Vediamo un po' Ecco qui la nostra netherack Ok Ok Ragazzi Speriamo che escano i diamanti Speriamo che escano i diamanti Perché se no Ancora nulla Niente A me è nascito uno prima Niente No stavo cadendo No ragazzi Ha laggato Non hai combinato? Eh Marco mi ha laggato E sono quasi morto Come sei così morto? Ti giuro sono quasi morto Quanta vita hai? Eh poca Mi mancano quattro cuori adesso Ok io ho trovato dei diamanti qua Ancora? Sì sì diamanti ne ho Eh però ne ho pochissimi Ma sei fortunatissimo Ne ho pochissimi però Marco Ne ho veramente pochissimi Ma non c'è nulla io Almeno tu hai qualcosa No fidati Non ne ho tanti Almeno per farti una spada eh Cioè No la spada ce l'ho già C'ho quella in ferro Alut lama sta sponando Ok Qua c'è altra clay ragazzi Devo puntare alla clay a sto punto Cavolo Non è stata una bella partita questa Non è stata una bellissima partita Eh perché stiamo fermando tanto i blocchi che sappiamo Esatto Tu stai provando a prendere qualcos'altro? No io non sto più trovando diamanti Ce l'ho mai trovato Eh ragazzi è andata questa partita Mi sa che questa partita è totalmente andata Ah Ah Dove ne è più? Non me ne è data scusa Ho perso dei blocchi Ah eccoli qua Sono finiti qua sotto Mi butto via Mi butto gli shulker ragazzi Lo so che arriveremo a fare queste cose qua Ma ci mettiamo troppo tempo poi Vai vai Spacca questi Spacca questi Tu quanta clay hai adesso? Eh no Sto facendo una alla volta Stai facendo una alla volta? Sì Stai facendo la roba degli shulker? Già È un disastro sta cosa Marco È un disastro Eh cosa posso farci? È così Ho 28 pezzi Vediamo questo qua invece l'orange qua Cosa che ci dà? Che magari dà qualcosa di interessante Dà una porta Che non guarderò Cavolo Marco Ma mancano solo 4 minuti Eh infatti sto correndo Guarda Sono Per ora ho aperto 8 Praticamente Loot per il diamante No Marco Questo qua Questo qua mi sta seguendo Eh ma perché Vuole vedere cosa stai facendo Eh dai è finita ragazzi Diamanti 2 Ma almeno posso farmi una spada Ok mi ha lasciato perdere Mi ha lasciato perdere Per fortuna Meno male Però non va bene come cosa Mi stava facendo cadere Io ho sbagliato Io sicuramente sbaglio ad andare in altezza eh Sbaglio ad andare in altezza Perché ho pochissimi cuori Mele d'oro Non ne ho nemmeno Vediamo Non ripristini vita col cibo Eh no Non ripristini vita col cibo Oh Oh Oltre ossidiano Posso craftare sicuramente Delle mele d'oro adesso Però Ok Quanto ne ho di vetro Vetro 23 pezzi Devo spaccare uno alla volta Cavolo la Ma proprio Ma proprio vi dico Proprio la nederach È vero Cioè sarebbe bello Poter andare Nel nederach Davvero Però Se non si può Non ci possiamo far nulla Niente niente Non sto trovando niente Marco eh Ho questi tre minuti finali Per trovare qualcosa Ma la vedo veramente dura Dai su 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 Con calma Walk door brothers Scrivono Eh ok ragazzi Come le faccio le porte di OH Sì esatto Beh posso farle io C'ho tanto legno Prova Ancora nulla Eh Marci sto farmando per ora Io sto spagando la nederach Mi è uscita la sella in diamante Mi è uscita Ah beh guarda sono pieno Di sella in diamante Sì 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 Io diamanti ne ho nove Quindi mi posso fare almeno la chest Poi l'armatura in diamante Sì oro ne ho 22 pezzi Ragazzi Niente è arrivato il momento di Di mettersi qui E farsi almeno un po' di cose Perché se no non ne usciamo più Allora Mele Direi che ci facciamo le mele d'oro Ne possiamo fare solo due Io ho pochissimo oro Ne ho sette Non posso neanche farmi ne una Pensate Guarda io mi faccio La spada in diamante me la tengo Cioè la spada in ferro me la tengo Mi faccio la chest plate in diamante Marco cosa devo fare? Cosa devo fare? Tu cosa fareste? E fallo Io devo solo farmi la spada Per quel diamante che ho Che disastro ragazzi Questo è un disastro epocale Qua ho trovato un legno Vediamo cosa fa Cosa ha tolito legno Oak door dicono Oak door Mark Oak door Dicono Ma io l'hawk door Come How to get the hawk door Vedi Allora facciamo così Loak Io mi mangio la mela d'oro Darkoak E non ce l'ho l'hawk normale Anch'io Oak door is end city Ma veramente Ma come? L'hawk door is end city No ma l'end city sai cos'è Marco? Il miglior blocco del mondo Cioè è quello che ti dà il drop potentissimo Eccolo qua Mi sa di sì che l'ho trovato Non ci credo Aspetta Oak powder Sandstone La sandstone Ma non mi ha dato niente la sandstone Ma scusami Ah Non funziona niente Ah no mi ha dato il melone Mi ha dato E il melone cosa mi dà? Il melone mi dà Ma dai non mi sta andando niente Porca Ah ecco qua Red sand Shulker box viola Oak cose Ah io a 20 secondi inizio a scappare Inizio a scappare Marco Vetro viola Niente carne marcia Niente è andata ragazzi Per me è andata Per me è veramente andata Mi sa che mi mangio anche l'altra melo d'oro Guarda No mi mangio la col No niente niente Scappo scappo Marco Inizio a scappare Inizio No no Continua a fare catena Fai catena tu? Sei matto? Sì 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 Manca in 0 secondi Ok È partito il pvp Tu dove sei? Dimmi le coordinate al volo Sono a 305 70 Meno 263 305 70 Meno 263 Vabbè sei lontanissimo 305 Meno 263 Vabbè da quest'altra parte In realtà 305 No ragazzi Non capisco da che parte Devo andare Di qua devo andare Ok Sto arrivando Marco Marco sto arrivando Ok Dobbiamo cercare di vincerla Non so come Non so come potremmo vincere Perché io sono Io sono in ferro Marco Non possiamo star vicini Quindi è inutile che vieni qua però No no possiamo star vicini Ho visto che Non Non dovremmo Diamanti? Dove li hai trovati? Mi hanno appena dato i minecraft Mannaggia Marco Troppo tardi però È una situazione un po' Terribile Difficile Sì Allora Marco Tu a che coordinate sei detto? Io sono Io sono quasi a 305 E meno Meno 100 Meno 100 qualcosa Guarda Guarda il volo Un attimo Perché sto buttando via roba Sei in una foresta? Sono Sì in una foresta Il bordo sta strangendo su di me Sono a 315 72 Meno 266 Ok siamo vicinissimi Marco Siamo vicinissimi Vedo il bordo Vedo il bordo Non ti vedo però Sei vicino alla collinetta Dove c'è la sabbia? Vediamo Allora a terra c'è una chest Di un player Non ti vedo Non ti vedo Si sta strangendo il bordo Ma non ti vedo Io sono quasi all'angolo del bordo Vai vicino all'angolo del bordo Eh eh sono qua Sono vicino al bordo io Non ti vedo Mannaggia Ma dove sei? Dove sei? Non ti vedo Ma dove sei? Ok c'è una chest Ti ho visto Fermati Fermati Ti ho visto? Eh ma non possiamo timmare No no ma va Non timmiamo Però Eh ma lo so Ma se stiamo troppo vicino è un casino Quindi stiamo lontani comunque Ok ti ho visto Stiamo un po' a distanza Ok vedo dei pollici Ti vedo Ti vedo Ti vedo Ragazzi allora Questa situazione è terribile Perché io e Marco Non abbiamo niente di interessante Questo ci ha droppato un banner Allora Eh no Eh questa è la parità brutta Parità brutta Marco Questa è la parità brutta Sto aspettando Sto tendendo di vedere persone Che tu non hai Tu hai solo la spada In diamante ok Esatto Vedi che qua hanno preso tutti la sabbia Non capisco perché tutti Abbiamo preso la sabbia Non lo so Io mi sa che mi mangio Anche l'altra mela d'oro C'è un player davanti a me Inciantato Fully inciantato? No Eh Marco Programmati in mare No non si può amarci No no ma non è che C'è anche la golden apple OP L'attacco È girato di spalle Eh se si mangia la mela OP Però è finita È per te C'è andato Qua c'è una chest C'è una Cespita inciantata Cosa che c'è? Ho una chest Inciantata ora Non ti vedo Dove sei? Mannaggia ti ho perso No Marci mi stanno spaggando No 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 Scappo Marco Scappo 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 Cosa danno? Sei morto? Sì mi ha sparato contro la barriera Mi ha preso da dietro sto qua Si chiamava DAJ11 Vediamo Eh no DracPL Oh ragazzi cosa faccio Marco Non so cosa fare Vediamo aspetta No le porte sono rotte No le porte sono rotte Marci Le porte danno solo roba inciantata Le porte in che cosa? Le porte di OAK Mamma mia Senti prova a chiedere questo qua No le porte di OAK Marci Veramente distruggono il gioco Le porte di OAK Questo qua è una farm Di porte di OAK E sta praticamente trovando solo roba inciantata Questo qua sta scappando da me Prova a venire da me Arrivo Eh ecco lì vicino a te Occhio Sulla destra Non andare mai sulla destra Ok ma ne sono andato Sono proprio andato via È sulla sinistra Marci dietro di te È dietro di te È dietro di te Occhio Proprio dietro 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 Mi sta seguendo Destra 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 ora Ma le porte di OAK Come si fanno Ok lì ce n'è una Sta arrivando un player Occhio No ragazzi è la fine Per me Io questo momento la devo farla scappare Dai Marci che ce la fai Scappa Quello si è fatto la roba sopra Dai si è fatto la skybase 1 Non ci posso credere Qua c'è una roba incantata Però me la prendo Ho preso danno ovviamente C'è qualcuno che mi segue ancora No non c'è nessuno che mi segue Non c'è nessuno Però attento No Corso of Vanishing No Marco mi sei bloccato Ho messo nel metto Con Corso of Vanishing Dai Marci Non ci posso credere Stanno affettando tra di loro Scappa Arriva un altro Arriva un altro C'ho con l'Hendel per questo Finita Questo è matto Questo è matto Ti colpisce da lontanissimo Dai no Non è possibile Dai Eh brutta 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 Mannaggia